ciao ragazzi oggi vi voglio spiegare come si fanno a fare le basi musicali in multitraccia nel senso che invece di usare i vari arranger perché diciamo che tutti gli arranger oggi possono registrare sia il mp3 che i wav o chi viceversa insomma chi può far solo mp3 chi può far solo wav io ho adotto un altro sistema che è quello di utilizzare un software che si chiama dub audition che molti di voi conosceranno anche che è molto 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 simile a quello che è cubase insomma allora abbiamo aperto audition clicchiamo su multitraccia diamo un nome al nostro progetto magari io scrivo nico e siccome già esiste una cosa che io avevo registrato si chiama nico e naturalmente lui andrà a sovrascrivere vedete c'è scritto esiste già e noi diciamo non ce ne frega niente allora si è aperto il banco di lavoro io almeno lo chiamo così insomma molti molte cose che io dirò non so se tecnicamente si chiamano così però diciamo che io faccio in modo e maniera per intenderci di spiegarmi nel miglior modo possibile allora qui abbiamo appena aperto sei tracce audio in stereo ok la prima cosa da fare dove c'è scritto l'input input stereo predefinito dobbiamo vedere almeno la prima volta cosa stiamo selezionando come input che tipo di scheda audio abbiamo in questo caso una quadro capture e la vado a selezionare solo una volta perché poi dal momento in cui sulle altre tracce si è scritto input stereo predefinito lui automaticamente saprà che è la mia scheda audio ok allora come facciamo a vedere se sta funzionando il tutto spingiamo r sulla traccia la andiamo ad armare e suonando la tastiera già collegata alla scheda audio vediamo si entra andiamo eccola la batteria ok perfetto allora proviamo a fare una piccola registrazione dal momento in cui noi spingiamo il tasto r sulla traccia non stiamo registrando ma abbiamo solo armata che sia ben chiaro ok allora che facciamo dove c'è scritto traccia 1 per non confondere le tracce e almeno siccome dopo quando andremo a registrare si vedranno tutti i disegni che sono tutti quanti simili per non rincoglionirci che cosa facciamo invece di scrivere dove c'è scritto traccia 1 clicchiamo due volte e ci scriviamo che ne so batteria batteria ok perfetto adesso andremo alla registrazione della batteria e naturalmente farò una cosa le fantasia per farvi vedere il più possibile per farvi capire il più possibile come come usare questo programma come divertirvi e come creare delle vostre diciamo così performance suoni diciamo no suoni e song ok va bene allora iniziamo e vi dico già che io non uso il clic ma volendo lo potrei usare in che modo allora facciamo la prova col clic perché è sempre meglio fare cose il più professionale possibile ok e adesso spingo rec sentiamo se c'è il clic ok c'è e naturalmente il tempo è quello che è preimpostato dovrebbe essere 120 come di solito si trova su una tastiera un arranger quando lo accendi di solito almeno sulle vecchie tastiere rimaneva specialmente la gemmo vs2 quando accendevi c'era sempre scritto 120 su led dove portava la parte numerica del tempo ok allora abbiamo detto abbiamo il clic perciò usufruendo del clic iniziamo a fare un diciamo così un un gruppo di batteria ok via partiamo perfetto ok stoppiamo leviamo la diciamo disarmiamo la traccia sentiamo che cosa abbiamo registrato pronti via come notate c'è il clic sotto come facciamo allevare il clic sotto siccome è una cosa che il programma ti dà solamente per ascoltare per per tenere il tempo basta di selezionarlo qui sopra automaticamente noi sentiremo la taccia nuda e cruda come ce l'ha da come l'abbiamo registrato senza clic via ok perfetto allora adesso non ho più bisogno del clic perché dal momento in cui abbiamo fatto la traccia andiamo a fare il basso scriviamo basso sulla traccia 2 ok perfetto abbiamo detto che l'input stereo predefinito ormai è la scheda audio nostra che gli abbiamo dato dall'inizio prepariamo il basso leviamo la batteria e ammazza ma strilla sto basso va bene allora ok partiamo la registrazione 1 2 3 4 ok perfetto in poche parole che cosa abbiamo fatto abbiamo registrato adesso la seconda traccia che insieme alla batteria suonerà diciamo in modo a tempo c'è un problema io ho un minimo di latenza sulla mia scheda audio che questa qua è una cosa che comunque sia è molto fastidiosa perciò dovrebbe non essere allineato la batteria con il basso andiamo a sentire sentiamo se è vero ok io spero che non sia vero perché cioè io spero che sia vero scusate perché voglio farvi notare come potete comunque procedere e riallineare tutto a tempo in che modo adesso andremo a vedere prima ascoltiamo sentite è fuori tempo allora che cosa facciamo allarghiamo la traccia qui vedete qua sotto sulla destra in basso c'è lo zoom per ampliare la traccia ok andiamo ad ampliare la traccia allora se vuoi per essere diciamo così il più il più precisi possibili più allargate la traccia e più i movimenti che voi andrete a fare tenendo cliccato sulla traccia con il tasto destro e spostando la tascia a destra a sinistra sarete più diciamo così precisi la cosa che vi può aiutare sono le dinamiche la dinamica della diciamo della gran cassa è quella che diciamo vi può aiutare come vi può aiutare quella del rullante in questo caso che sto usando quella del rullante però sappiamo bene che la maggior parte diciamo dei pezzi a meno che non sono in un basso a controtempo il controtempo diciamo che il basso il tocco del basso sta sulla gran cassa allora andiamo a vedere perciò vediamo un po prima di tutto vediamo dove alla mettiamo i minuti e la seconda traccia e vediamo dove la gran cassa ok la gran cassa è questa ragazzi adesso ve la faccio vedere questa è la gran cassa ok questo disegno qua che si ripete questi sono i tocchi della gran cassa come vedete non sono più cubo naturalmente essendo più cubo come suono la diciamo la la dinamica è diversa il rullante invece che più secco e diciamo e ha delle dinamiche diverse è disegnato in quest'altro modo quello che vedremo al centro è il charleston ok perfetto perciò è come se noi ci abbiamo in poche parole ci abbiamo disegnata la batteria qui allora abbiamo detto gran cassa che è questa ok abbiamo detto charleston che questo più piccolino che ha un suono molto più basso e abbiamo il rullante qua vediamo se è vero perciò doom charleston rullante avete sentito sporco perché io la sto facendo camminare molto molto velocemente però vi faccio vedere su un pezzo ecco guardate adesso ve la fa gran cassa charleston rullante avete sentito avete visto mentre si muoveva diciamo così il cursore nella traccia play come andava a diciamo a farvi sentire i vari suoni che noi avevamo già detto ok prendiamo il basso lo mettiamo sulla gran cassa su per giù vediamo se è allineato bene se no ci sposteremo ok via perfetto lo sentite ok perfetto adesso siccome abbiamo visto che ci piace il lavoro che abbiamo fatto che cosa facciamo abbassiamo riduciamo un'altra volta la traccia in lunghezza e la facciamo ridiventare corta in questo caso dobbiamo registrare la terza traccia a questo punto mettiamo una bella chitarra allora vediamo usiamo una bella chitarra di quelle scusate sto scegliendo la chitarra non è niente di preparato scusate a fantasia pronti iniziamo registrazione ok perfetto abbiamo aggiunto la chitarra adesso anche questa ora problemi di allineamento sentiamo dove la vogliamo fare intervenire e ce l'andiamo a collocare ok perfetto vediamo quasi preciso allora riportiamo indietro dove è l'inizio e sentiamo di nuovo perché va a spostare un po ok vediamo adesso se è allineata perfettamente ok perfetto un po troppo un po troppo in anticipo perciò la rispostiamo poco poco indietro e riascoltiamo vediamo ok così mi pare abbastanza preciso abbastanza ragazzi vi dico perché io sto cercando in breve tempo di farvi vedere come come si si fa una registrazione multitratch ok andiamo ad aggiungere un'altra chitarra che è quella elettrica ok perfetto se avete già in mente che se no fate delle prove vedete quello che volete volete fare insomma e aggiungiamo la chitarra ok via ok perfetto abbiamo aggiunto la chitarra naturalmente anche la chitarra non sarà allineata ma se parla dei millisecondi che sarebbe la latenza che ho io sulla scheda audio e comunque sia ormai mi sono abituato a lavorare così e diciamo non la tocco mi piace di più perché mi ricorda sempre e mi allena l'orecchio ad allineare sempre diciamo i tempi diciamo di intervento tra una traccia e un'altra tra uno strumento e un altro sentiamo che cosa siamo andati a creare è poco poco in ritardo perciò basterà allargare un po' per essere più finalizzati e andiamo a mettere la traccia quasi sull'attacco della chitarra vedete allora vediamo un po' se abbiamo risolto ancora un po' in ritardo poco poco più avanti e rifacciamo ripartire la traccia come vedete io sto spostando solo la traccia di chitarra perfetto adesso noi abbiamo fatto quello che è diciamo così un pezzo facciamo pinta che questo pezzo abbia solamente questi strumenti qua a questo punto che cosa facciamo? lo andiamo a mixare ci mettiamo le cuffie e sentiamo se il tutto ci piace alzando un po' i volumi naturalmente della song ricordatevi una cosa per capire bene se una song è buona sia di bassi, di medi e tutto quanto oltre che alle cuffie cercate di sentirle su delle casse anche su uno stereo della macchina per cercare di sentire se comunque sia le dinamiche sono giuste se i bassi, i medi, gli alti e l'ecolizzazione comunque sia fatta in modo eccellente in modo che chiunque sentirà la vostra cacazzone, la vostra song che avete fatto in qualsiasi impianto lo mette e comunque la sentirà in modo egregio ok? allora, risentiamo dall'inizio la chitarra un po' sparisce perciò io la alzerai un po' di volume andiamo qui sopra la traccia di chitarra e vado ad alzare poco poco i db quindi risentiamo un'altra volta la traccia per sentire che cosa... se adesso diciamo i suoni stanno in modo più corretto suonano ok benissimo, perfetto sono contento di quello che sono riuscito a creare in pochi secondi salviamo tutto quanto facendo col tasto destro dove non c'è nessuna traccia ok? e mettiamo mix down sessione su un nuovo file ok? questo è quello che è rimasto di tutto quello che noi abbiamo fatto un'unica traccia in stereo sentiamo perfetto, ok da qui la possiamo salvare se non dobbiamo aggiungere effetti eccetera eccetera poi farò un altro tutorial vi spiegherò come si metteranno gli effetti su ogni traccia se vi servono, ok? vedete qua salviamo nico mix down ok sul desktop mettiamo desktop perfetto e premiamo ok ok chiudiamo gli diciamo di salvare tutto lui salva tutto quanto scusate ho la scheda qui e qui c'è la nostra canzone che faremo partire con il play qui allora spero di esservi stato utile vi ringrazio se vi piace il video lasciate un like se non vi piace non lo lasciate vi saluto a presto